La provincia di Napoli è fra le più giovani d'Italia e vanta il più elevato indice di natalità. Ma da alcuni anni, invertendo una tendenza storica, il tasso di mortalità per tumore si è attestato al di sopra della media nazionale. Per controllare il fenomeno e indagare le possibili cause di questo incremento anomalo della malattia, il Comune di Napoli, in collaborazione con l'Associazione Napoletana Giovani Ricercatori, promuove l'istituzione di un osservatorio oncologico che svolgerà uno studio capillare di tutti i dati disponibili per la città di Napoli relativi al periodo 2000-2010. Lo scopo è quello di pervenire a una mappatura dettagliata per quartiere con le frequenze delle diverse patologie tumorali. In questo modo sarà possibile ricercare le correlazioni con i parametri ambientali, sociali ed economici. Si discute molto sulla possibilità che alcune malattie siano legate all'inquinamento del suolo e dell'aria. La ricerca servirà a verificare scientificamente la consistenza di queste ipotesi. Poter stabilire un rapporto di causa-effetto tra gli inguinanti e la patologia oncologica è sempre un compito molto difficile e anche opinabile. Abbiamo scelto invece di cominciare un'osservazione degli ultimi dieci anni. Abbiamo avuto numerosissime emergenze rifiuti, abbiamo avuto le centraline ARPAC che più delle volte sono state fuori uso e quindi ci hanno consegnato dei dati molto frammentari e anche imprecisi e invece vogliamo capire quanto tutto questo ha ingiso sulla salute dei cittadini napoletani. Appena qualche anno fa potevamo vantare percentuali di mortalità più basse rispetto a città del centro nord. È evidente che questo vantaggio poteva probabilmente spiegarsi con le condizioni di maggiore salubrità del nostro territorio. Sono state fatte scelte ambientali sbagliate negli anni passati. Oggi è urgente rimettere sotto controllo e monitorare quindi i cambiamenti e le politiche ambientali. Noi con l'osservatore oncologico prevediamo di analizzare un trend di mortalità di circa dieci anni dal 2000 al 2010 nella città di Napoli. Con questo i risultati di questo progetto ci porteranno a comunicare alla popolazione napoletana ma soprattutto ai giovani qual è il reale rischio a cui siamo esposti. Lo studio, che coinvolgerà giovani ricercatori medici, informatici e statistici, avrà la durata di un anno. I risultati saranno quindi resi pubblici anche per incentivare l'attuazione di strategie mirate di prevenzione.